Iniziò come una vacanza. Desideroso di sfuggire a un fulgido futuro nelle grandi pianure, Arthur Hovitzer Jr. trasformò una serie di rubriche di viaggi nel French Dispatch. Un fattuale reportage settimanale sui temi di politica mondiale, le arti, nobili e meno, e varie storie su ciò che è di umano interesse. Non trovi che sia troppo squalido stavolta? No, non trovo. Per le persone per bene? L'intento era vivace. Radunò una squadra dei migliori giornalisti stranieri del tempo. Berenson, Sazerac, Kremens, Robeck Wright. Era questa la sua gente. Fallo sembrare come se tu l'avessi scritto così di proposito. Prendiamo come tema per la lezione di questa sera il signor Moses Rosenthaler, certamente la voce più risonante della sua scalmanata generazione. Simone Nuda, braccio J. Sala Hobby. Voglio comprarlo. Non è in vendita. Sì, lo è. Non lo è. Sì, lo è. Non lo è. Sì, lo è. Non lo è. Sì. In pratica, il dipinto fece scalpore. Sono stati i ragazzi. Hanno annientato mille anni di autorità repubblicana in meno di due settimane. Che cosa vogliono? Libertà. E basta. Sono nudo, signora Kremens. Questo lo vedo. Il tenente Nescafier è lui il supremo esempio dello stile gastronomico noto come cucina poliziesca. Gli aromi lanciarono un incantesimo destinato ad essere mortalmente infranto. Come ormai saprà, abbiamo rapito suo figlio. Ciao. Sta zitto. Un messaggio dal capotipografo. Un'ora all'andata in stampa. Sei licenziato. Sul serio? Non piangere nel mio ufficio.